ragazzi quando entri nel bosco con basse aspettative e poi trovi i porcini Pedro è uno dei momenti più belli, facciamo vedere questo aiuto ragazzi bombone ci tocca prendiamo oh ragazzi ma non ci credo che meraviglia è stato? guarda ma amore sei bravissimo ma questo cos'è? è un ciccione mamma mia ma amore sei contento guarda ragazzi questo non me lo aspettavo mi ha preso in contropiede guarda un oggetto così no dai io che ho detto qui sono andato in letargo questo Pedro direi che non è andato in letargo stai là mamma mia che macchina che fortuna che fortuna e tanto che fortuna mamma mia che fortuna che fortuna ma che fortuna è andato in letargo vediamo dove è il porcino amore? ma sei bravissimo amore vediamo com'è vediamo è un rosso eh sì è bello è bello si vediamo un po' mamma mia è stato un bianchissimo è un campione prendiamo Pedro se ci vuole bravo buon giornale buon giornale ragazzi buon giornale eh sì eh sì e mi sa che è anche molto bello vuoi premio amore ma ti arto che te lo do il premio sei stato bravissimo ragazzi ho un cagnetto unico ormai quando vado nel bianchissimo vi racconto questa quando vado nel bosco due persone su trauma e lo chiamano per nome un altro giorno ha voluto una foto ha voluto una foto di Pedro mi amore madonna mia è stato ma che emozione buon giornale in fine stagione ha voluto una foto particolare ma che splendore ma è bellissima bravo tanto bravo sei bravissimo amore sei bravissimo Pedro c'è Pedro che è stanco Pedro amore sei stanco guardati qua guardate qua ragazzi guardate qua guardate qua un altro è bello ma come sei bello ma come sei bello e come sei ciccione e stagione e stagione bellissima gente bello mi ha messo gli altri cammini appena ho raccolto questo da cosa ho visto un altro che bello che bello andiamo a raccogliere andiamo a raccogliere ma com'è bello anche questo ma come sei bello amore vieni anche tu vediamo un po' questo mamma mia ma che momento ragazzi vieni 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 piccolino non è piccolino vieni bravo mamma mia ragazzi che giornata anche questo che meraviglia che meraviglia ti sei già messo in posa vediamo com'è davvero bello davvero bello come sono bello bellissimo 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 bello prestissimo pipino vediamo 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 cosa c'è qua è piccolino sembra carino vediamo un po' è piccino qua è carino vedo ragazzi che sta ecco oggi ecco oggi vediamo vediamo un po' ragazzi qua vai vai vieni amore fatti vedere dai 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 i tempi che corrono ragazzi si tutto favrono si dice si è luminoso dove amore si eh si eh si sai premio certo che ti do premio certo premio bravissimo vediamo com'è adesso aspetta aspetta spostati vediamo spostati 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 vediamo un po' e eh dai un giullino carino dov'è polcino amore ecco dov'è polcino amore lì ciò no faccio vedere dove funziona? eh sì eh sì bravo amore, sei bravo, sei bravissimo, sì sì vediamo com'è, carino eh? facciamo vedere cosa abbiamo trovato qua, un tombolo sembra carino, ben fresco, è bianco Pedro questo, è bianco, lo troveremo ancora sarà di nascita, ma andiamo a vedere dov'è amore? sei qua amore, tu sai che mi sembra proprio bello questo, il trattone d'uori se ti vuole andiamo a raccogliare l'altro vieni Pedro vieni Ciaccio vieni qua questo qua guardiamo ma si è bravo si 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 l'hai visto? è attaccato bene questo dai 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 non male oggi abbiamo incontrato due persone hanno detto ma è lui Pedro eh si che è lui Pedro c'è Capotino che ha trovato un mio Pedro l'ha trovato prima lui sei bravissimo è bello questo un bella botto vediamo un po' uuuuuh Capotino amore bellissimo sei bravo ragazzi che emozione questo non 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 non